Ciao a tutti, ciao a tutti, come state? Ben ritrovati, un saluto, vi ricordo come sempre di commentare numerosi, di lasciare un bel like, iscrivetevi da questa parte, attivate la campanella numerosissimi, mi raccomando, ci tengo. Come va? Vacanze? Le fate, non le fate? Riuscite a farle, non riuscite a farle? Dove andate di bello? Io Riviera Romagnola, grande fan della Riviera Romagnola, davvero viva la Romagna! E, tra l'altro, a luglio andrò con Mirko Palo, iscrivetevi al suo canale YouTube, mi raccomando, grandissimo Rossonero, telecronista di Top Calcio del Milan, e con Fabrizio della Giustina, Ippocrate Rossonero, saremo nello stesso hotel insieme, appunto, a Igea Marina, intorno a metà luglio, perché ci sarà, magari sarà occasione per, per vederci. E voi dove andate di bello? Così, sono curioso se riuscite a fare le vacanze, ovviamente non è scontato. Allora, ragazzi, veniamo alle novità rispetto a quella che potrebbe essere una clamorosa rivoluzione. Attenzione, attenzione, innanzitutto, da quello che abbiamo raccolto anche quest'anno, il Milan farà un mercato autofinanziato, cioè venderà per poi comprare. Quindi mi aspetto una cessione dolorosa, sperando che sia soltanto una, magari rispetto ai big, e quindi, insomma, un incasso che poi finanzia il mercato. Con Furlani, che spesso, ultimamente, nelle interviste ha detto, a differenza della scorsa stagione, non sarà un mercato, diciamo così, così massiccio, ma dovremo fare alcuni innesti mirati. Quindi, parliamone, parliamone, perché soltanto guardando la squadra titolare, dobbiamo prendere l'attaccante, dobbiamo prendere il centrocampista, dobbiamo prendere il difensore, e vogliamo prendere anche il terzino. Quindi è un mercato che, senza considerare le possibili eccessioni, ci deve portare in squadra 3-4 titolari. Quindi, insomma, non è un mercato mirato, poche cose, no? Attenzione, sarà un mercato che necessita di tanti soldini. L'andato l'abbiamo capito, l'abbiamo visto lo scorso anno, e così sarà anche quest'anno. Poi, magari la coperta è un po' più lunga, sicuramente rispetto agli anni scorsi. Sugli esterni siamo copertissimi, poi vedremo con che modo lo giocheremo. Come numero 9 siamo scopertissimi. A centrocampo, siccome due ne prendiamo, in difesa almeno un centrale, sono due, e un terzino. Quindi, per me è un'altra, diciamo così, in generale, mezza rivoluzione. Ma la rivoluzione potrebbe riguardare, in maniera, diciamo così, robusta, il reparto di difesa. Che, guardiamoci negli occhi, ragioniamo insieme a Voce Alta, quest'anno è il reparto che prende un voto più basso rispetto agli altri. Rispetto all'attacco, rispetto al centrocampo. La difesa, a livello individuale e collettivo, prende un voto più basso, detto che la fase difensiva, come spesso abbiamo sottolineato, dipende anche dagli altri giocatori, dagli altri reparti, dal centrocampo soprattutto, oltre che parzialmente dall'attacco. La difesa, però, male. Se ragioniamo sulla valutazione di quest'anno, Calabria e Florenzi, la sufficienza la do a Florenzi, non la do a Calabria. Ciao non do la sufficienza, Gabia do la sufficienza. Tomori, parte finale male, ma parte iniziale secondo me è bene, la sufficienza la do. Kier, caso un po' a parte. Teo Hernandez la sufficienza la do, ma poteva fare molto di più. E mi dimentico qualcuno. Sono questi, a parte poi i giovani. Ebbene, attenzione perché il reparto di difesa potrebbe essere davvero rivoluzionato. Non dico totalmente, ovviamente, ma quasi. Innanzitutto, diciamo che quest'anno ha poi Calulu insufficiente perché non c'è mai stato. Diciamo subito che, ecco, rispetto alla tole stagione, si spera che Calulu il prossimo anno possa essere un acquisto in più. Cioè che possa stare bene. Abbiamo visto anche nella gara vinta contro il Cagliari come effervecente, vivace sulla destra, abbia portato qualcosa di interessante come Terzino finché ha avuto benzina. Terzino, centrale, si spera che il prossimo anno possa fare un ruolo che sia quello. E quest'anno non c'è mai stato. Il prossimo anno speriamo di ritrovarlo versione, 11 partite dell'anno dello Scudetto, le ultime 11, quando Milano prende soltanto due gol. Lui resterà. Resterà anche Gabbia, che ha fatto bene, che è prodotto nel nostro settore giovanile, importante anche per la questione liste, è anche uno che si fa trovare pronto e che, ripeto, per me è una sufficienza pienissima. Un bel set, sette e mezzo in pagella da quando è rientrato dopo l'esperienza a Villareal a gennaio. Per il resto, attenzione, Kier esce. Un grazie enorme a Kier, speriamo che possa essere in campo nell'ultima partita, che sarà sicuramente emozionante anche per il saluto a Simon Kier, oltre a quello che a Giroud. E con Kier perdiamo anche un giocatore di esperienza, di leadership e di carisma. Però questo lo sapevamo. Ci sono poi due giocatori centrali, poi parliamo delle fasce, che sono Ciao e Tomori. Attenzione. Ciao quest'anno ha fatto male. Ha sicuramente fatto male. condizionato un po' anche dal contesto tattico, di una squadra orientata ad attaccare e a rischiare un po' dietro. La scorsa settimana c'è stato un incontro, se non sbaglio giovedì o venerdì, a Milano, tra Gordo Stipic, che è l'agente di Ciao e il Milan. E l'agente Stipic anche di Lacroix, oltre che di Ciannoglu, ma questo non ci interessa. I rapporti sono molto buoni. La strategia condivisa con l'agente di Ciao è che il Milan punta su di lui. Dovesse arrivare però un'offerta importante, il giocatore potrebbe partire e finanziare un altro colpo in entrata del quale adesso parliamo. Ciao però per il Milan è un giocatore di 22 anni, che può crescere molto e che il Milan vorrebbe confermare. Quest'anno ha fatto male, però secondo me il valore non può essere compromesso da una stagione negativa. Può crescere, deve crescere, in un contesto diverso che possa esaltare le sue caratteristiche, che non sono quelle di difendere a campo aperto 40 metri uno contro uno. Può essere prezioso, sulle palle alte è insuperabile, è una qualità questa che ci mancava prima del suo arrivo. Chi però al centro rischia, a sorpresa, in discrezione questa clamorosa, di saltare è Tomori. Tomori che nella parte finale ha deluso, nella parte iniziale secondo me si era rivisto il Tomori versione Scudetto, nella parte finale molto male, recentemente l'esclusione dell'ultima gara, poi entra, fa comunque male, perde un giocatore, fortunatamente era fuori gioco, la partita prima entra nei premi con tutti i tre gol del Genoa e provoca un rigore sciocco, cosa che ogni tanto lui fa. Ecco il Milan ha in Tomori una possibilità di monetizzazione importante, perché parliamo di un giocatore di 26 anni, 27 li farà a dicembre, scadenza 2027, che ha considerazione in Premier League e la gente un mesetto fa, un mese e mezzo fa, quando era scoppiata l'indagine sul Milan, proprio in quel momento va detto e lui non lascerebbe il Milan in un momento delicato, non approfitterebbe di questa situazione, però sicuramente in estate avrà mercato, avviso ai naviganti. Da quello che risulta, la posizione di Tomori è tutt'altro che sicura e tranquilla al Milan. Questo Milan sta considerando l'ipotesi di cedere Tomori per fare un incasso importante e autofinanziare un colpo a suo posto. Chiaramente Ociao o Tomori, non tutti e due, Calulu dopo questa stagione resta, perché non ha un gran mercato, comunque ha cifre importanti. La sensazione, la notizia più che la sensazione, è che se arriverà un'offerta importante per Tomori e Ociao, uno dei due partirà. Sinceramente io li vorrei tenere tutti e due, perché per me possono essere, sono forti, chi l'ha dimostrato di più chi l'ha dimostrato di meno, però l'idea del Milan è quella di inserire una pedina importante. Abbiamo detto dell'incontro con Stipic, poi faremo delle fasce che rappresenta la Croix, profilo che piace molto a Moncada, giocatore di 24 anni, scadenza 2025, con il suo club Kelfosburg, 1.92, fa anche qualche gollettino mica male, però il vero sogno del Milan è Alessandro Bongiorno, che di anni ne ha 24, ne fa 25 tra meno di un mese, 1.90, scadenza 2028 con il Torino, assistito da Beppe Riso, con cui stiamo parlando del rinnovo di Camarda. Anche lui il gollettino ne ha fatti, ne ha fatti tre quest'anno, profilo che è nel giro della Nazionale Azzurra, che ha una valutazione importante. Però ecco, il concetto del Milan è questo, io posso vendere ciao a... ho pagato 5, ciao, o è bilancio comunque a 5, lo posso vendere a 30, 35 e fare una plusvalenza importantissima e a suo posto prendere buongiorno, aggiungendo però dei soldi perché Cairo te ne chiede una quarantina. Però è come la famosa pubblicità, scambieresti due fustini per questo? In questo caso scambiereste ciao per buongiorno, più o meno è così? Io li vorrei tutti e avere anche buongiorno. Dall'altra parte stesso discorso per Tomori, per cui la cifra può essere molto vicina a quella di buongiorno. Tomori comunque in Premier League ha considerazione, potessi provare a vendolo a 40 e girare quei soglie buongiorno. Fareste lo scambio buongiorno Tomori? Buongiorno è il grande sogno. La Croix è il piano B, poi c'è il piano C che è Brassier. Secondo me buongiorno è davvero forte, è italiano, che è un valore aggiunto. Lo vedo sinceramente più compatibile per caratteristiche con Tomori. Cioè mi sembra più logico che arriva buongiorno se parte ciao. Però a quel punto Tomori lo tieni per avere una coppia equilibrata. Tomori che ha delle offerte e si parla di questo apprezzamento anche del Real Madrid. L'idea del Milan è di provare a inserire buongiorno facendo un sacrificio dietro, purtroppo comunque importante e a malincuore per quanto mi riguarda. Sui terzini, la rivoluzione può essere ulteriore. Intanto credo che arriveranno due difensori. Avremo Gabbia, Calulu. Ciao e Tomori, se uno va via devi prenderne poi due. Simici non piaceva Pioli, vediamo se piacerà al nuovo allenatore, ma deve rinnovare il suo contratto. Sulle fasce Florenzi resta, Terracciano dovrebbe restare perché la dirigenza ci punta. Ci sono a sorpresa, soprattutto uno, due posizioni in bilico. Quella di Teo Hernandez, per questioni che tutti sappiamo, il rinnovo di contratto che non arriva, i dialoghi con il Bayern Monaco, una cifra di partenza da 5 milioni di euro che è l'attuale ingaggio col decreto crescita che senza decreto crescita rinnovare sembra quasi impossibile per come ragiona la nostra società. Quindi Terracciano potrebbe partire. Dall'altra parte, sulla fascia destra, c'è l'obiettivo di inserire un terzino destro. Vi ho fatto il nome di Emerson Royal, di Tiago Santos, del Lille. In Milan sicuramente un terzino destro che possa diventare titolare lo vuole mettere. C'è Florenzi che avrà un altro anno di contratto, lo sappiamo, però attenzione perché da quello che ci arriva, a sorpresa, le strade tra il Milan e il Calabria potrebbero anche separarsi. C'è un dialogo sul rinnovo, poi zona Milan emerge che lui chiede il doppio dei 2 milioni attuali. Zona Calabria invece emerge che lui firmerebbe anche a 1,82 che è l'ingaggio attuale. Ho la sensazione che il club forse stia iniziando a scaricare Calabria, ragionando proprio anche su una cessione a un anno di contratto dalla scadenza del 2025. Questo sicuramente sarebbe sorprendente. Secondo me Calabria nel Milan ci sta come alternativa al titolare che arriverà. Farò andare via, però questioni di senso di appartenenza, di zoccolo duro, di spogliatoio e anche di italianità, secondo me sarebbe un peccato. Però attenzione perché c'è questa situazione qui da monitorare. Quindi dietro il reparto credo che verrà davvero rivoluzionato. Terzino destro lo mettiamo, terzino sinistro vediamo se cambia se va via Teo Hernández. Uno, due difensori in mezzo e qualche sacrificio. Perché oggi Calabria, abbiamo detto, Teo Hernández, Tomori e Ciao non sono sicuramente sicuri di una permanenza. E' un reparto che necessita di cambiamenti. Io non lo rivoluzionerei così completamente. Fosse per me terrei Teo Hernández, metterei il titolare ma terrei Calabria come alternativa anche perché Florenzi è un po' chilometrato. Vero che è IG Menez che può crescere, deve crescere. Sui centrali io mi terrei Ciao, Tomori, Calulu, Gabbia. Cercherei di fare uno sforzo per mettere un titolarissimo e poi un giovane di belle speranze oppure promuovere Simic. Non rinuncerei per il rischio di mangiarmi le mani né a Tomori, che per me è il difensore comunque più forte del Milan anche se in questo momento è impopolare, né a Ciao che ha un margine incredibile appena 22 anni per me è davvero forte. Ditemi che ne pensate, commentate numerosi, lasciate un bel like, iscrivetevi da questa parte, attivate la campanella numerosissimi. Un abbraccio a tutti, dove andate in vacanza sono curioso se ci andate, altrimenti codiamoci l'estate dove siamo, sperando di arrivare a buone notizie per il Milan. Un abbraccio a tutti, forza Milan oggi più che mai, domani ancora di più e viva la Romagna!